Benvenuto all'amico Andrea Paolini, direttore generale della Fondazione Toscana Life Science e poi il suo debutto televisivo, ci fa piacere che lo faccia con noi, la dottoressa Tatiana Zoppi, responsabile marketing e communication del gruppo DS Diagnostica Senese. Ed è una storia senese, quella dove ha intessuto il suo percorso professionale la dottoressa Zoppi, quella della DS Diagnostica Senese, ovviamente fra i padri fondatori abbiamo anche un grandissimo senese, capitano di contrada come il dottore Arezzini, ma la Diagnostica Senese nella sua eccellenza ha saputo adesso attrarre importanti investimenti di capitali stranieri per una nuova sfida di futuro. Ci racconti un po' questa nuova vostra fase, Tatiana? Allora, diciamo che DS è una media impresa che ha oltre 150 dipendenti, ha una tasse di fatturato di circa 25 milioni di euro e appunto è stata fondata nel 1980 da quattro ricercatori ex clavo e quindi l'anno prossimo celebriamo il quarantesimo anno all'anniversario. In questo momento siamo appunto in questa fase nuova di rilancio in cui la strategia è proprio quella di fare investimenti sulle infrastrutture e quindi nelle persone e nelle infrastrutture proprio strutturali e negli investimenti di prodotto, quindi sulle linee già presenti in azienda come la VES oppure lo strumento che è presente in azienda per l'automazione dell'Elisa e poi abbiamo altri investimenti all'estero e infatti già noi siamo presenti in oltre 100 paesi all'estero. Si, si, siamo stati in una sera bellissima, lei si si in California è andata benissimo, si si molto bella. Quindi avete portato Siena, perché l'altro elemento che secondo me è sempre importante sottolineare è che delle eccellenze, in questo caso del mondo legato al settore farmaceutico e quindi si confronta a livello internazionale portano in qualche modo la nostra storia, portano Siena nel mondo. Andrea, l'importanza della filiera, l'abbiamo sottolineato, sarà un anno importante di crescita di progetti, sappiamo dell'importante investimento che ci sarà da parte di Menarini qua a Siena, questa è la via? Assolutamente sì, ma penso a DS che è una realtà straordinaria, del nostro territorio come stato detto, scuola sclavo, tutto quello che a Siena è nato da lì, fortunatamente tutte quelle che sono le gemmazioni di sclavo stanno crescendo bene, noi stiamo supportando questo grande sviluppo, ci stiamo posizionando sempre meglio sul livello europeo e questo qui automaticamente attrae altre eccellenze e altri progetti, la cosa più sfidante è far vedere che il livello è molto alto, penso ai progetti che facciamo anche con l'azienda ospedaliera, con l'Università sulla medicina di precisione, se offriamo basi solide l'eccellenza viene attratta sul territorio e poi ne genera altra e il meccanismo non voglio dire che è semplice, però facilita il lavoro di tutti. Funziona, l'esempio di DS è assolutamente come diceva il dottor Paulino, un esempio luminoso, tradizione, sfia di futuro, un grande investitore internazionale, insomma avete un sacco di responsabilità Tatiana. Sì, diciamo che DS poi è soprattutto rivolta alla ricerca, allo sviluppo e alla produzione tutta italiana e quindi insomma ora con investimenti, grandi progetti e quindi insomma diciamo che l'entusiasmo è forte. Poi i primi 40 anni fra poco si festeggia. Un altro anno sì, sarà una grande festa e quindi penso insomma sia una cosa bella. Saluto a Andrea Paulini e a tutti gli amici di Toscana Life Science e un grande grazie a Tatiana per essere stata con noi, a DS, in bocca al lupo per questa nuova avventura.